La ricerca serologica da sola è fuorviante, quindi l'indicazione che io do è che non bisogna effettuare solamente il test serologico, perché è fuorviante, perché è dotato di non altissime sensibilità e specificità. Il gold standard diagnostico per quanto riguarda questa infezione è a tutt'oggi la ricerca tramite tampone dell'RNA virale. Ora, i test serologici però, in un contesto di un laboratorio di referenza come il mio, possono essere effettuati a supporto del tampone e comunque il percorso deve essere effettuato e deve essere sempre gestito in un ambito di unità operativa complessa di microbiologia e virologia clinica. Il dottor Paolo Fazzi, direttore dell'unità operativa complessa di microbiologia dell'ospedale di Pescara, centro di riferimento regionale per la diagnostica della Covid-19, chiude la porta perentoriamente alla possibilità di fare a tappeto a tutta la popolazione i test serologici rapidi per la ricerca dei contagiati da coronavirus. Su questa tipologia di test, ad esempio, il Veneto sta puntando molto e non più tardi di lunedì scorso, è iniziata la prova sierologica su un campione di 200-300 casi di persone infettive e dipendenti della sanità, per cominciare a validare gli anticorpi neutralizzanti. In Abruzzo avevano seguito l'esempio Veneto alcuni comuni della Marsica che però sono stati diffidati dalla regione Abruzzo che ha deciso di attenersi in maniera scrupolosa alle direttive del Ministero della Salute, il quale continua a ribadire la perplessità sull'utilità di questo tipo di indagine epidemiologica. Il dottor Fazzi poi ha fatto il punto sulle novità introdotte nel suo laboratorio per accelerare le risposte dei tamponi dopo l'affiancamento di IZS e il laboratorio dell'annunzio di Chieti. La possibilità di aumentare il numero dei test e questa situazione fortunatamente per quanto mi riguarda si dovrebbe realizzare dopo Pasqua con l'acquisizione di strumenti ad alta produttività, ci garantirà la possibilità di eseguire il test non già a tutta la popolazione come qualcuno ha pensato di fare, che è del tutto inutile, estremamente costoso e non ci darebbe sicuramente alcun vantaggio, bensì a setting particolari di soggetti, quali? Operatori sanitari, detenuti, forze di polizia, giornalisti come ha detto lei, lungodegenti, in RSA, ospizi di vario tipo, forze di polizia. Allora in questa maniera si riusciranno a trovare i soggetti asintomatici o paucisintomatici che potrebbero essere fonte di contagio. E questa è, diciamo, dal punto di vista epidemiologico, la soluzione migliore per ulteriormente cercare di sconfiggere questo virus o comunque di ridurre in maniera considerevole il contagio. Infine, secondo il dottor Fazzi, se il contagio proseguirà con il ritmo attuale, si può prevedere un'uscita dall'emergenza non prima della fine di maggio. Attualmente la situazione è ancora critica, ma è una situazione che veramente ci fa sperare per il meglio. Sono diminuiti i ricoveri, i posti di rianimazione non sono più saturi e quindi in pratica stiamo, secondo me, più che sul picco, su una specie di plateau che a breve, secondo me, ci porterà verso una discesa, verosimilmente non molto ripida purtroppo, però ovviamente avendo affrontato in questa maniera questa pandemia, ovviamente abbiamo avuto però un minor numero di morti sicuramente e un minor numero ovviamente di infetti. Quando finirà? Io ovviamente non lo posso dire, non lo posso sapere. Mi auguro che il tutto possa finire per la fine di maggio oppure per i primi di giugno, ecco, quello è l'augurio, speriamo che sia così.